Buongiorno! Bondi! Documenti? Ce l'ho io, ce l'ho io, ce l'ho io. Ecco, ecco qua. Stai calmo, Max, calmo. Ora il doganiere prende i documenti e al limite farà una smorfia quando leggerà il tuo cognome, ma non lo dirà mai a voce alta. Non c'è motivo. Signor Cacato! Signor Cacato! Signor Massimo Cacato! Ma diciamo che ti chiede, è Cacato! Sì, lo chiamo Cacato, stai zitto. Signor Cacato, potete scendere. Dobbiamo fare una perquisizione. Perché? Perché siamo due, io e lui e il maiale. Una formalità, non vi preoccupate. Ma non c'è un maiale, da vero. Signor Cacato, se volete accomodarvi. Ascolta la roba dietro. Vabbè, fai il maiale. Il maiale, stai zitto. Signor Cacato! Sì, vengo, vengo. Non c'è bisogno di bociare sempre il nome, capisco. Che sta succede? Ma che si chiama davvero Cacato? Eh? Cacato! Sì, sì, Cacato si chiama. Che sta succede? Ma non si potrebbe cambiare il cognome. Che ne so, cariato, casato, capato. Ma che te frega? Ma che tu lo devi sposare? Dove sono le monete, Viola? Tranquillo, tranquillo. Quello l'abbiamo messo in un posto... Dove? Dove? No, andiamo! Tranquillo. Hai avuto il signor Cacato? Eh sì, ancora? Sei divertito? L'avevo detto dieci volte. Ti voglio mettere qui alla dogana per vedere se quando arriva che gli altri tu lo dici dieci volte. Accidenta, i bifabbo. Il signor Massimo! Il signor Massimo! Il signor Massimo! Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no.